avevo bisogno di un cloud siamo appena usciti dalla conad per andare alla coppa e poi l'euro spin tordi ai supermercati partiti siamo fuori dalla coppa prima effetti il conad è molto più chill cioè qui c'è troppo di tempo oggettivamente ma il conad è proprio il chill fatto al supermercato io ho speso tipo tre euro e mezzo per questa lui ha comprato anche questa mentre queste aveva già presi al conad e quindi ora fare un po l'assaggio di queste cazzo i bicchieri andiamo alle loro spin e compri abbiamo comprato i potuti bicchieri nel video abbiamo comprato di bicchieri e ora faremo il test del test 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 Anzi, non riesco a mangiarli, sono pieno Dai, tu l'ultimo, per la gloria No, se la mostra era il mango Sparisci Grazie